Ciao a tutti, io sono Giulia De Martini, ma sul web mi trovate come Giulia De Mar. Io ho iniziato a parlare di libri sul web perché quando l'ho scoperto che potevo condividere questa passione comunque con un fenomeno così ampio di persone, con un numero così ampio, ho trovato la mia strada perché io amo i libri, sono la mia passione principale e non avevo ancora mai trovato nessuno con cui parlare così profondamente di libri e sui Booktube ho trovato la community con cui discutere di tutto quello che ci piace e ovviamente soprattutto libri e condividere idee, pareri, recensioni. Se volete venire con noi a parlare di libri a Pisa ci trovate all'angolo Booktube, alle loggie dell'Internet Festival di Pisa.